Sin dal lancio iniziale, la nuova Renault Espace prevede una gamma completa di accessori per il trasporto, comodità dell'abitacolo, esterni personalizzati, interni personalizzati e protezione esterna. La nuova Espace è il primo modello Renault in grado di offrire un gancio di traino che è possibile ritrarre manualmente. Si ripiega sotto il paraurti mediante l'azionamento di una maniglia all'interno del bagagliaio. In questo modo rimane disponibile, ma nascosto e protetto quando non viene utilizzato. Questo sistema di traino è collegato a una specifica soglia del bagagliaio. Grazie per la visione!